L'ex premier Matteo Renzi a sorpresa ha fatto visita a Napoli, si è preso una pausa dal lavoro romano sulla nuova squadra del PD ed è andato a pranzo con Paolo Siani, pediatra e fratello di Giancarlo, giovane cronista assassinato dalla Camorra nell'85. Renzi ha ascoltato le sue considerazioni sui minori, sulla sanità, sulla povertà minorile, sulla necessità di scommettere sulla cultura e sull'educazione come presupposto della legalità. Poi un mini tour a Scampia, in compagnia solo di un amico sacerdote, senza telecamere o dirigenti locali del PD. Ho chiamato il mio amico scout, padre Fabrizio Valletti, e io ho chiesto di farmi vedere, senza dirlo a nessuno, il cuore di questo territorio, simbolo di tante realtà disagiate, spiega Renzi in un post su Facebook. Il mio governo ha stanziato molti fondi per le periferie e ha messo a disposizione del Comune di Napoli le cifre necessarie per abbattere le vele, ma non bastano i soldi. Occorre un progetto complessivo perché le persone per ripartire ci sono. Renzi ha incontrato anche Gianni Maddaloni, che con la sua palestra rappresenta una delle più belle esperienze di riscatto, non solo sportivo, a Scampia. In palestra il leader PD ha incontrato Antonio, trentenne ex detenuto. Una giornata speciale, ha concluso Renzi, torno a casa più convinto che mai che se tutti facciamo un piccolo sforzo, le cose possono cambiare e l'Italia può veramente diventare un paese più giusto.